Aggiornamento di Sheldani del Per la Gerarchia Spirituale e la Federazione Galattica. 3 marzo 2011. Selamatierin. Torniamo per proseguire la nostra discussione con voi. Gaia sta accentuando i suoi segnali di avvertimento all'umanità, mettendovi in allerta e indicandovi che è giunto il momento per la sua grande trasformazione, così come previsto dai numerosi decreti del cielo. Anche coloro che intendono prolungare il loro tempo al potere attraverso le loro astuzie sono stati messi al corrente, che il cielo desidera che questi grandi cambiamenti abbiano inizio immediatamente. Di conseguenza, abbiamo informato i nostri referenti e il personale diplomatico per mettere in chiaro che ulteriori ritardi non sono più consigliabili. Nel frattempo i nostri alleati stanno lavorando a pieno ritmo per completare le attività rimanenti, e noi, per la nostra parte, abbiamo assistito ad una serie di eventi per garantire il completamento di qualsiasi attività rimanente. Queste operazioni stanno per convergere in quel punto della nostra linea temporale, che è stato individuato dal cielo e dalle sue molte gerarchie. Siamo concentrati su questi cambiamenti e abbiamo allertato i vari governi comunicando che lo stato delle cose non verrà più tollerato, una volta, che tali date sono state raggiunte. La nostra superiorità tecnologica ha chiaramente dimostrato a questi regimi, che facciamo sul serio. Gli avvertimenti ai regimi recalcitranti sono stati accompagnati da numerose prove della nostra abilità nel rendere inutilizzabili gran parte delle loro tecnologie segrete, e intendiamo ampliare la portata di queste attività avvicinandoci alla data indicata. Stiamo enfatizzando ulteriormente la nostra determinazione nel prelevare molti leader dei vostri principali governi al fine di imprimere su di loro, in prima persona, l'urgenza dell'attuazione di alcune richieste, che abbiamo fatto, e la necessità immediata della loro collaborazione. Stiamo utilizzando delle semplici misure per sottolineare questi punti, ma non intendiamo fermarci visto che si tratta di qualcosa che supera le possibilità della cabala oscura, e che va ben oltre la loro comprensione. Inoltre, questa forza ha un obiettivo divino, che non potrà essere fermato e che prevede la completa realizzazione degli obiettivi principali di questa missione di primo contatto. A tal fine abbiamo aumentato il nostro livello di intervento, e siamo orientati a rimuovere gli oscuri e il loro manipolo di servi al potere. La preparazione al vostro periodo di transizione si sta avvicinando a grande velocità e auspichiamo che la cabala abbia a questo punto ben compreso che è giunto il momento per la loro abdicazione incondizionata. Questa cabala ha gestito il vostro mondo, in un modo o nell'altro, per quasi dodici millenni. E non è cosa da poco per questa organizzazione dover ammettere che il loro regnare è giunto al termine, è per questo che abbiamo ritenuto opportuno l'utilizzo dei guanti di velluto all'inizio delle nostre negoziazioni con loro. Naturalmente questo approccio non portò risultati, e a quel punto passammo alla fase successiva, togliendo loro alcune delle loro attività molto importanti, questa azione li fece riflettere e presero nota. Ma anche questa tattica non riuscì a smuoverli. Questo ha portato al prelevamento di qui sopra, e questo ha fatto effettivamente aumentare la loro disponibilità nel prestare attenzione. Questi leader sparirono sotto gli occhi dei responsabili della loro sicurezza, che non furono in grado di fermare le nostre azioni. Abbiamo promesso altri simili interventi, impressionando tutti e rendendo chiaro, che i nostri poteri non si limitano a questo. Questa dimostrazione della nostra determinazione ha scatenato la convocazione immediata dei consigli direttivi degli oscuri, che tuttavia hanno determinato solo minime concessioni. Per questo motivo siamo stati costretti ad organizzare diverse missioni per rendere inutilizzabili una vasta gamma di tecnologie governative segrete. Questo, infine, ha veramente attirato la loro attenzione. Il nostro obiettivo è quello di permettere ai nostri alleati di rimuovere questi tiranni dal potere, per consentirvi di gustare la sovranità, la libertà e la prosperità, che giustamente meritate. I preparativi sul vostro mondo hanno raggiunto la fase in cui tali condizioni possono facilmente manifestarsi, e in effetti, la vostra popolazione mondiale sta dimostrando chiaramente che il desiderio per questi diritti donati da Dio, brucia ardentemente in tutti voi. Il cielo sostiene pienamente i desideri del vostro cuore, e la nostra missione, di conseguenza, prevede che tali condizioni possano manifestarsi prima del primo contatto. Così abbiamo guidato i nostri alleati di Terra verso gli eventi, che faranno accadere tutto questo, a beneficio di ciascuno di voi. Siamo consapevoli dell'enorme frustrazione, che avete sopportato a causa di quei ritardi che sembrano interminabili. portiamo inoltre molto rispetto per quelle anime coraggiose, che si sono unite per dimostrare la potenza intrinseca, che questi desideri possono generare, la vostra società globale a un bivio, e si avverte la sensazione tangibile, che è giunto il momento per quel grande cambiamento, che ora si sta manifestando. Analizzando questo periodo di transizione, la prima cosa, che noterete sarà il caos crescente in tutto il pianeta, e questo genererà naturalmente un aumento proporzionale delle vostre frustrazioni, è questo il sentimento, che guida gran parte delle manifestazioni di protesta che stanno portando alla caduta di una serie di governi. Anche se gli oscuri possono trasformare tutto questo a loro vantaggio, si aprono tuttavia anche diverse opportunità per la luce. Le variabili legate ai recenti eventi globali prefigurano i molti cambiamenti, che sono pronti ad apparire sul vostro orizzonte. I nostri alleati di Terra sono impegnati nel fare in modo, che i regimi più importanti del vostro mondo, abbiano un futuro breve, e vi assicuriamo che questo è per noi un requisito fondamentale. Abbiamo dato a questi governi affiliati alla cabala oscura motivazioni convincenti per uscire di scena, e ci aspettiamo da loro una piena e tempestiva comprensione. Per aiutarli nel loro percorso abbiamo dato in carico al nostro personale di sorvegliare le attività di questi regimi e i loro affari affinché siano in linea con il susseguirsi degli eventi divinamente decretati. Le modifiche di superficie previste da madre Terra sono nella loro fase iniziale. Un importante punto di attenzione sarà l'anello di fuoco del Pacifico, dove sta per avere inizio una risalita del fondale marino del Pacifico per ristabilire le muria. Questo significa che un certo numero di terre vicine a quelle importanti placche tettoniche sono ora a rischio, e i terremoti, come quelli recenti in Nuova Zelanda e a largo della piccola catena delle isole Fuji, diventeranno più frequenti. L'intero bacino del Pacifico è ora in movimento. Questi eventi particolari anticipano l'affiorare di quelle terre che finiranno con l'unirsi alle coste di Australia, Indonesia e numerose altre. Queste nuove terre ridefiniranno la mappa del Pacifico, e quello che riemergerà dall'oceano sarà l'antico continente a lungo perduto, con una più equa ridistribuzione di terra e mare. Un fenomeno di dimensioni globali. Il ritorno di Atlantide è stato un ulteriore argomento di discussione con i cabalisti, visto che ogni oceano contiene segreti, che da tempo si sono preoccupati di tenere ben celati. L'oceano Atlantico conserva molte prove inconfuttabili dell'esistenza di atlantide griglie costruite dall'uomo, grandi piramidi, e la presenza di strani fenomeni energetici. Gli oscuri sono stati molto accorti nel mantenere segrete queste informazioni, sono numerose le spedizioni di ricerca che hanno subito interferenze, o che hanno dovuto desistere sotto le minacce delle autorità competenti. Ora abbiamo intenzione di rendere più facile per gli esploratori la scoperta della verità. Le terre favolose di Atlantide esistono, e un buon posto per cominciare questa ricerca è a largo della punta sud-occidentale di Cuba e nel mare tra lo Yucatan e Cuba. Chiediamo agli interessati di iniziare da questi punti le loro ricerche e di seguire le nostre navi per identificare ulteriori siti utili alle loro indagini. Il nostro viaggio nel vostro mondo è solo l'ultimo di molti, siamo stati a guardarvi per millenni, ed i nostri studi sono stati realizzati in collaborazione con gli agartiani. Ora è giunto il momento per il primo contatto e questo richiederà la rimozione del potere della cabala oscura, per mandato divino. Ciascuno dei suoi organi di governo richiede un'azione decisa per farli dimettere. Siamo determinati ad aiutarvi nel rivendicare i vostri diritti e nell'ottenere la prosperità di cui avete diritto in qualità di cittadini di Gaia, essendo sovrani e sempre maggiormente consapevoli. Avete un destino divino e Gaia conosce l'importanza di questo, per lei e per i suoi ecosistemi più preziosi. Noi veniamo per agevolare tutto questo, e per garantire che il passaggio successivo possa avvenire nel momento indicato da Lorde Surea e dai Sacri Decreti del Cielo. Oggi abbiamo parlato di cosa è stato fatto per portare gli eventi verso una fase di preparazione al primo contatto. Siamo pronti a fare un annuncio molto importante, che preparerà il terreno per il nostro primo contatto formale con voi. È arrivato il momento di assistere ad alcuni eventi veramente importanti, che riguarderanno il vostro mondo. Sappiate, carissimi, nel profondo del vostro cuore, che illimitate risorse e l'infinita prosperità del cielo sono davvero vostre. Così sia. Selamat Gaiun. Selamatia, in siriano siate uno nell'amore, siate nella gioia. Traduzione Gualtiero Costanza 2003